Ieri sera Gioiosa Ionica è esplosa con la musica e le canzoni dei Quarta Aumentata. Il gruppo è ormai uno dei maggiori esponenti di musica etnica folk più importanti del meridione d'Italia e a testimoniarlo ci sono quasi vent'anni di concerti. Nella straordinaria coreografia naturale del giardino dello storico Palazzo Amaduri, scrigno della cultura del centro storico di Gioiosa Ionica, con la Proloco e il patrocinio dell'amministrazione comunale e in collaborazione con l'emittente televisiva regionale Telemia ha presentato il tour 2015 del fantastico gruppo musicale L'Ocrideo. Alla voce Paolo Sofia, Salvatore Gullace alla chitarra e al mandolino, Giuseppe Plantani con il basso, Massimo Cusato alle percussioni e la batteria, Massimo Diano alla fisarmonica e l'organetto hanno ripercorso, accompagnati dal calore dei propri fan sparsi in ogni parte della Calabria e non solo, quasi 16 anni di grande musica. Il gruppo dei Quarta Aumentata, nato nel 1998 dall'incontro artistico dei quattro musicisti calabresi, provenienti da varie parti diverse della Calabria e con varie esperienze musicali, alle spalle jazz, pop, classica, si sono uniti e dal loro incontro è nata la stesura delle musiche del progetto teatrale Gruppo Spontaneo. Il nome della band, che trae origine dall'intervallo musicale di Quarta Aumentata, è molto presente nella cultura musicale mediterranea, che caratterizza inconfondibilmente il loro sound. Grazie alla loro esperienza teatrale hanno iniziato a comporre il loro primo album, orientando la musica verso la riscoperta delle tradizioni musicali calabresi, ma rielaborate e contaminate da melodie, atmosfere e ritmi della World Music. Il nostro paese è innavita in tanti strati, ma tu dica non passa mai, avanti a reddito vai e tanti ripati, come tutta la testa mia e manco sai. Se troverò il coraggio e ti invicino, se avessi come solo il primo mattino, che piano piano non vuoi cartola, se avessi di vita paguita a noi, quando ti tocchi i capigli, quando fatti i capigli... ...